La Banca del Monte di Lucca, già parte del gruppo Carige, sarà acquisita da Banca Biper, un accordo che per analisti e investitori segna la nascita del quarto polo bancario italiano con ulteriori prospettive di crescita. L'operazione, che dovrebbe concludersi entro il mese di giugno, è giudicata positiva e strategica da parte dei vertici della Banca del Monte, che, dopo l'annuncio dell'intesa, attendono di conoscere la nuova proprietà e il nuovo piano industriale. Biper ha dichiarato che il suo interesse strategico è proprio quello di entrare nel territorio della Toscana e della Liguria e in Toscana entrerà grazie agli sportelli di Banca del Monte di Lucca sul nostro territorio provinciale e con gli sportelli di Carige. Quindi direi che questa è una soluzione ideale, è l'operazione migliore che potessimo avere e darà sicuramente nuove opportunità, nuove opportunità di crescita e di sviluppo e soprattutto non ho offerte di servizi bancari. Quando un territorio ha una pluralità di offerte di servizi, non ne può che trarre dei benefici. La volontà di rafforzare la presenza sul territorio attraverso gli sportelli della Banca del Monte di Lucca rappresenta un segnale di sicurezza e tranquillità anche per il personale dipendente. Non essendoci sovrapposizioni, credo che per il personale dipendente sia la soluzione migliore. Considerate che attualmente Banca Monte è una banca autonoma e indipendente che era guidata sotto la direzione del coordinamento del gruppo Carige, ora sarà una banca autonoma e indipendente sotto invece la guida di Biper. Credo che questo sia un vantaggio per tutti.